Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, edizione diretta delle 10 che apriamo purtroppo con una brutta notizia. È morto Giuliano Zoratti, è stato calciatore dell'Udinese, allenatore e ha fatto anche con Udinese TV una parentesi in qualità di opinionista televisivo. Vediamo proprio le immagini che si riferiscono a Udinese Tonight, edizione del 2018-2019, nella quale partecipava ospite in studio della trasmissione condotta da Giorgia Bortolossi. È morto questa mattina dopo una lunga malattia, nella stagione 66-67, ha vestito la maglia dell'Udinese in serie C, ha giocato anche nella Pro-Gorizia fino al 1975 da allenatore, ha iniziato la carriera proprio con il Pro-Gorizia. Nel 1977 è entrato a far parte dello staff di Massimo Giacomini, allenatore dell'Udinese, e Zoratti poi ha seguito la carriera di Giacomini come vice allenatore per un decennio, alternando esperienze in serie A e in serie B. Ci addolora la scomparsa del mister Giuliano Zoratti da parte dell'Udinese Calcio e di Udinese TV, tutta le condoglianze alla famiglia del mister. Ne parleremo ancora nel corso di questa giornata nei nostri telegiornali, cercando di ricordare al meglio una figura che è stata importante per il calcio della nostra regione e per il calcio dell'Udinese. Andiamo adesso a vedere le ultime notizie con il touchscreen, che arrivano dal monitoraggio, la bozza di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, che ci dice, ci parla di un calo dell'RT a 0,63 e una incidenza dei casi che è scesa a 9 casi ogni 100.000 abitanti, ed è dunque una riduzione rispetto alla settimana precedente, arrivano ancora dati positivi, pertanto, dall'emergenza Covid e continua la riduzione dell'RT nazionale, scende l'incidenza, come abbiamo detto, e secondo quanto si apprende dai primi dati della bozza di monitoraggio della settimana da parte di Istituto Superiore della Sanità e Ministero della Salute sull'andamento dei contagi da coronavirus in Italia. Adesso c'è l'esame della cabina di regia, che poi presenterà i dati ufficiali quest'oggi, se sarà necessario. Ci saranno le ordinanze da parte del Ministero della Salute, ma si parla comunque di regioni che sono tutte con rischio basso. Ne parleremo tra poco, quando andremo a vedere anche i dati nel dettaglio del Covid nazionale di quelli regionali. Ma intanto passiamo ad una dichiarazione del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica, regione che è costretta a contare ogni giorno nel compito dei nuovi contagi, che peraltro rimangono molto bassi, una parte consistente che arriva da migranti. Mi preoccupa che ci siano persone che passano attraverso paesi dove c'è il rischio che ci siano delle varianti. È una situazione che non aiuta nel momento in cui il paese ha vissuto uno stress enorme e non ci meritiamo l'importazione del virus. Lo ha detto il Presidente della Conferenza delle Regioni Federica intervenendo ad una trasmissione dei nostri partner Tele4 a Trieste riferendosi ai casi di contagi tra le persone migranti provenienti dalla rotta balcanica. A questo proposito Federica ha ricordato che oggi su 7 contagi a Trieste 5 sono di migranti, si riferisce all'ultimo bilancio disponibile. Mi infastidisce che la nostra valutazione sul contenimento della pandemia in Regione sia condizionata da persone che entrano irregolarmente, ha aggiunto. Rispetto all'ipotesi di somministrare vaccini ai migranti, Federica ha sostenuto che servirebbe a poco perché la gente entra già contagiata. E allora andiamo di nuovo a parlare di dati che riguardano il virus. In assoluto i casi sono in diminuzione, come abbiamo visto anche dalla bozza del monitoraggio della quale abbiamo parlato poco fa, la proporzione di casi di infezione da SARS-CoV-2 causati da variante Delta e K, la seconda faceva parte della famiglia della variante Delta ed ora è distinta, quindi c'è stata una separazione all'interno della stessa variante ed è in aumento in Italia. Lo indica la bozza di monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità. La maggior parte di questi casi è attribuibile a focolai circoscritti in varie parti del Paese. I tecnici nel documento chiedono, visto l'aumento dei casi anche in paesi con alta copertura vaccinale, un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi, di un'elevata copertura per il completamento dei cicli della vaccinazione. E ancora, dicevamo di tutte le regioni che sono in rischio basso, anche le province autonome, naturalmente nessuna supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva che rimane al 3%, con la soglia critica che, ricordiamolo, è stata individuata al 30%, ma non si arriva a queste percentuali ormai da molto tempo. Ecco, vedete il Ministero della Salute pubblica questa pagina, nei dati in tempo praticamente reale e sia nei reparti di terapia intensiva, dove si registra uno 0% di incremento rispetto alla percentuale della settimana precedente, del periodo precedente preso in esame, e sia nei ospedali, nei posti letto in area non critica, abbiamo un 3% di occupazione su livelli di allarme fissati per la terapia intensiva al 30%, per gli altri reparti, quindi area non critica, fissata al 40%. Il tasso di occupazione nelle aree mediche a livello nazionale scende, si attesta a circa il 3% come quello delle terapie intensive, abbiamo un numero di persone che passa alla 362 in terapia intensiva il 22 giugno, rilevazione del 22 giugno, a 240 nell'ultima rilevazione che è stata effettuata il 29 di questo mese. Il numero di persone ricoverate nelle aree non critiche passa a 1.676, con un considerevole calo dai 2.289, sempre riferendosi ai dati dell'ultima rilevazione e di quella precedente riferita al 22 giugno. I dati sono parte integrante della bozza del monitoraggio che la cabina di regia in questo momento sta valutando e poi verranno, come detto, forniti i dati definitivi. Andiamo a vedere adesso i dati Covid in Italia, qual è il bilancio delle ultime 24 ore che abbiamo a disposizione, del dato del primo luglio, che ha visto un incremento di 882 casi con 21 decessi, 1941 le persone guarite, che hanno fatto scendere sotto le 50.000 le persone attualmente positive nel nostro paese, abbiamo detto dei dati di occupazione di terapie intensive e reparti aree non critiche degli ospedali. Passiamo adesso a vedere invece il dato delle vaccinazioni, vediamo a che punto siamo con i vaccini nel nostro paese, abbiamo superato ormai da qualche giorno la soglia delle 50 milioni di dosi somministrate, siamo a 52.112.997 con quasi ormai 20 milioni di persone completamente vaccinate, 19.08865 in un paio di giorni dovremo arrivare anche a superare i 20 milioni di persone coperte dal completo ciclo vaccinale che in questo momento sono il 35,33% della popolazione vaccinabile, cioè della popolazione over 12. Vediamo anche per quanto riguarda lo sviluppo regionale com'è la situazione, in Friuli Venezia Giulia siamo all'89% di dosi utilizzate rispetto a quelle ricevute, 1.065.965, molte regioni sono al di sotto del 90%, vediamo come la regione Veneto è all'88,8 con quasi 4.200.300.000 dosi somministrate, la media nazionale dell'88,5, cosa succede? Quando arrivano le dosi a disposizione del paese e poi vengono distribuite nelle regioni, chiaramente queste rosi non vengono utilizzate subito e si abbassa la percentuale di utilizzo rispetto a quelle ricevute, ciò non vuol dire che il piano vaccinale stia procedendo male, ma semplicemente si tratta di questo, vedrete che nei prossimi giorni nella finestra in cui non c'è un arrivo e una distribuzione di nuove dosi di vaccino, ma si procede comunque con le somministrazioni, le regioni torneranno a superare il 90% di utilizzo di dosi di vaccino ricevute e dunque il piano sta andando bene, abbiamo superato. Siamo in Europa con il 10% in media, sulla media europea in più in Italia per quanto riguarda la copertura vaccinale della popolazione, anche con la doppia dose, quindi l'Italia sta facendo un buon lavoro sul fronte della copertura vaccinale anche se siamo indietro, ma non soltanto noi, siamo in buona compagnia purtroppo in questa condizione di altri paesi europei rispetto al Regno Unito dove siamo ben oltre il 60% della popolazione coperta alla doppia dose e quasi l'80% di persone che hanno ricevuto almeno una dose, questo significa che in quel paese nonostante quasi 30.000 contagi da variante Delta, gli ospedali restano comunque vuoti, cioè le terapie intensive e gli altri reparti in ospedale e in Regno Unito rimangono sotto un assoluto controllo e non ci sono in questo momento situazioni critiche, c'è un livello di allerta abbastanza alto ma si continua a fare vita più o meno normale e per quanto riguarda la situazione del Regno Unito c'era dire che domani è prevista a Roma la partita fra l'Inghilterra e l'Ucraina, quarti di finale dei campionati europei, ma i biglietti che sono stati acquistati in un momento in cui non c'era la variante Delta con questa dimensione di contagi sono stati annullati, cioè tutti i biglietti che i tifosi inglesi avevano acquistato per poter assistere alla partita dal vivo allo stadio olimpico, recandosi dunque a Roma dal Regno Unito sono stati annullati per cui in questo momento è in atto una campagna di comunicazione capillare e molto diffusa per comunicare a tutti di non partire perché allo stadio non potranno entrare ma c'è anche da dire che ormai da qualche giorno in Italia chi arriva dal Regno Unito deve sottoporsi alla quarantena di 5 giorni, dunque si sta ovviamente riversando anche sugli europei, ma non poteva che essere così, la problematica della variante Delta e ne sentiremo ancora parlare perché non bisogna dimenticare che sono previste le semifinali e la finale in Regno Unito del campionato europeo e c'è chi comincia a fare pressione sulla UEFA affinché riveda la sua posizione rigida di mantenere le sedi di finali europee in un paese in cui i contagi sono elevatissimi, per cui vedremo potrebbe esserci anche in extremis uno spostamento, un cambio di sede, la finale ricordiamo si giocherà l'11 luglio a Wembley, si giocherà? Vedremo se si giocherà a Wembley perché in Regno Unito la situazione è abbastanza complicata dunque il rischio è non tanto per chi è nel Regno Unito perché abbiamo visto, vi abbiamo detto i vaccini stanno funzionando, dunque non c'è una situazione d'allarme, ma andare a giocare lì andare a portare dei tifosi a Wembley e poi rispedirli nei paesi di provenienza magari con un virus addosso non sarebbe ovviamente la migliore delle cose da fare. Staremo a vedere come andrà a finire. Andiamo avanti invece vediamo i dati del Covid in Friuli Venezia Giulia dopo aver aperto questa ampia parentesi su quello che avviene in Italia e in Regno Unito, qui siamo in Friuli Venezia Giulia dove sono registrati i tre contagi in più rispetto al giorno precedente, questo è l'ultimo bilancio, come ha ricordato Federica di questo bilancio almeno sette persone positive si riferiscono a migranti che sono stati rintracciati sul territorio dopo essere entrati clandestinamente in Regione e sottoposti al tampone sono risultati positivi. Zero persone ricoverate in intensiva e otto negli altri reparti sono il bilancio invece della situazione ospedaliera che è del tutto sotto controllo, come dicevamo cala il numero delle persone in isolamento che progressivamente sta scendendo, non si registrano guariti nell'ultima 24 ore ma il numero di positivi attualmente in Regione è di 184, i tamponi effettuati sono stati 4.769 e il totale dei decessi rimane fermo a 3.789 visto che non ci sono stati nuovi decessi in riferimento a questo bilancio il tasso di positività sui tamponi effettuati è dello 0,31%, ricordiamo che è un tasso che si riferisce al complesso dei tamponi molecolari e rapidi, i tamponi antigenici. Adesso cambiamo argomento e andiamo ad ascoltare le dichiarazioni di Matteo Salvini sul caso del pestaggio da parte delle guardie carcerarie sui detenuti del carcere di Santa Maria Capovetere in Campania. Ma la legge c'è, la legge c'è. Evidentemente però non è bastata ad arginare questa che è stata definita una mattanza. Ma il Ministro Bonafede ai tempi ci disse gratuito regolare. Ma lei lo vuole dire che è stata una mattanza? Io penso che sia stato evidente che ci sono state delle violenze. È una mattanza secondo lei? A lei piace l'aggettivo, ci sono state delle violenze. Ma lei vuole condannare quello che hanno fatto questi agenti? È stato inaccettabile, incomprensibile. Sì, ma è una mattanza o no? Ma sì, se questo la rende più felice, e dico sì, è stata anche una mattanza la rivolta che c'è stata in questo carcere. È stata una mattanza la rivolta che c'è stata in queste ed altre carceri, con morti, con felici, con il segno. No, questo lo dice lei e per il solo dirlo se ne deve vergognare. Ho detto che vanno punite le violenze. Ma perché viene qui a portare solidarietà? Io vengo qua a portare a solidarietà donne e uomini in divisa che non hanno fatto niente e che rischiano la vita e non possono essere sputtanati in terra di campo. Questa è la dichiarazione di Matteo Salvini. Era prevedibile che il caso suscitasse poi la bagarre politica. Adesso invece cambiamo argomento e parliamo della prevista stangata che si potrebbe battere sulle famiglie italiane a causa del caro prezzi dei prodotti petroliferi. C'è una statistica che ci dice questo e la più significativa è quella dei prezzi che si stanno alzando e dunque dell'inflazione che si fa sentire. L'inflazione resta inchiodata ai livelli del mese scorso, ma per gli italiani che si apprestano ad andare in vacanza si prospetta una stangata estiva. In scia e rialzi dei prezzi del petrolio, infatti, i listini dei carburanti hanno toccato livelli da record e questo trend, secondo i conti fatti dai consumatori, rischia di tradursi in una zavorra di ben 270 euro all'anno per le tasche delle famiglie. In effetti il prezzo medio di un litro di benzina è salito a 1,628 euro al litro, con un rialzo di circa il 16% e quello del gasolio a 1,489 euro più 15,5% circa, il che, secondo le stime del Kodakons, significa che per un pieno di benzina un'automobilista spende oggi 11,20 euro in più rispetto allo scorso anno e 10 euro in più per un pieno di gasolio. A dar conto di questa situazione è stato anche l'Istat, le cui stime preliminari vedono l'inflazione ferma a giugno all'1,3%, lo stesso livello di maggio scorso, ma registrano come principale driver del carovita ancora una volta i prezzi dei prodotti energetici. Sul fronte dell'inflazione di giugno, l'Istat spiega tuttavia che, oltre al rincaro degli energetici, alcuni segnali di lieve ripresa si manifestano in altri comparti merceologici. I prezzi degli alimentari lavorati adverano infatti il calo registrato a maggio e quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona tornano a crescere. Adesso parliamo di cultura, di mostre, della mostra di legio che ormai già da qualche settimana è tornata, fruibile per i visitatori, tanti visitatori che ogni giorno si recano in Carnia per dare uno sguardo a quelli che sono degli autentici capolavori che la mostra ospita e siamo collegati con Monica Nardini che è andata proprio per noi a parlare, a fare il punto della situazione, il bilancio di queste prime settimane di esposizione. Monica, buongiorno. Buongiorno, ci troviamo nella casa delle esposizioni di legio, circondati da 30 opere spettacolari di inestimabile valore provenienti a tutta Europa. Passiamo infatti negli spazi della mostra Cambiare, organizzata dal Comitato di San Floriano, accanto a me la Presidente del Comitato Lara Iob. Allora, a un mese e mezzo dell'apertura, buongiorno Lara, come sta andando questa esposizione? Buongiorno a tutti e benvenuti a Il Leggio. La mostra Cambiare sta andando benissimo. Vorrei dire, oltre le nostre aspettative, ma in realtà siamo oramai abituati a questo successo di pubblico. La gente è affezionata, Il Leggio lo prende come un appuntamento fisso di quella che è l'estate. Quindi ogni anno venite da noi, ogni anno sempre più numerosi e quindi vi ringraziamo per questo. Ricordiamo i grandi protagonisti di questa esposizione. Ci sono opere mai viste prima dal pubblico in Italia, ma neanche alcune in Europa. Esatto, abbiamo alcune opere provenienti da delle collezioni private che sono inedite. Abbiamo due Monet eccezionali, un Picasso, un Valla. Abbiamo due meravigliosi Van Dyck, uno da Vicenza e uno da Genova che meritano la visita della mostra solo loro. Come state organizzando le visite? Quante persone possono accedere ogni giorno e le principali misure di sicurezza? Le misure di sicurezza oramai le abbiamo testate anche l'anno scorso. Si segue la normativa vigente, di conseguenza possiamo fare entrare massimo una ventina di persone al piano inferiore che poi vengono divise in due gruppi da massimo 11 persone. Quindi in una giornata si raggiungono le 480 visite. Con questa mostra essere aperta fino al 17 ottobre anche per il borgo di Leggio vuol dire continua a voler dire tantissimo. Grazie, sì. Fino al 17 ottobre e il 16 ricordiamoci che inauguriamo quella che è la mostra di Udi nella forma dell'infinito a Casa Cavazzini che è la naturale prosecuzione della mostra di Leggio. Chi visita Cambiare chiude il percorso con il sapore di quella che sarà la mostra di Udine. E qual è il messaggio in particolare a cui tenete di più resti nel visitatore di questa mostra Cambiare? Beh, che cambiare è una condizione dell'essere umano, anzi dell'essere animato in quanto tale. La differenza con gli animali e con le piante è che l'essere umano è conscio di questo cambiamento e che cambiare, voler cambiare, significa voler migliorarsi e di conseguenza non possiamo che augurare a tutti di volerlo fare. Grazie. Grazie a Lara Job. Linea a voi. Grazie Monica. Adesso parliamo invece di accordo transfrontaliero che riguarda la sanità, il punto nascita di Nova Gorizia sarà valido infatti fino al tutto il 2021, l'accordo stipulato nel 2014 tra la regione Friuli Venezia Giulia e l'ospedale di Nova Gorizia per l'utilizzo del punto nascita sloveno da parte di cittadini italiani residenti nei comuni di Farra di Sonso, Gorizia, Mossa, San Floriano del Coglio, San Lorenzo di Sontino e Savogna di Sonso. Seguite nel corso della gravidanza dagli ambulatori ospedalieri di Gorizia e del distretto sanitario Alto Isontino. Inoltre nel caso di neonato che abbia necessità di assistenza medica neonatologica, l'equip medica di ostetricia e pediatria dell'ospedale si impegna a trasferire il neonato presso la neonatologia del Burlo Garofalo di Trieste o presso l'azienda sanitaria universitaria integrata di Udine. Questo accordo sarà valido fino a che una delle due parti non comunicherà una diversa volontà, pertanto affinché le donne residenti nei comuni citati possano continuare a scegliere volontariamente di partorire nel punto nascita sloveno, l'accordo sarà valido fino a tutto il 2021 da parte dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Adesso parliamo di Europei 2020, questa sera l'Italia gioca contro il Belgio alle 21 a Monaco di Baviera, ci si gioca l'accesso alla semifinale. Sentiamo le parole del commissario tecnico Roberto Mancini nella conferenza stampa che si è tenuta ieri. Dubbi pochi, dobbiamo fare delle scelte ma siamo già indirizzati abbastanza bene, poi aspettiamo domattina perché comunque vediamo anche le condizioni fisiche di tutti che domani staremo meglio, quindi domani mattina valuteremo tutto. Io credo che in queste partite siano belle proprio perché giocano grandissimi giocatori, quindi il Belgio è una grandissima squadra, è la migliore del ranking da tre anni, noi stiamo giocando bene, quindi credo che per uno spettatore vedere le squadre al completo sarebbe la cosa più bella, quindi noi ci auguriamo che possano recuperare tutti, sapendo che chiaramente ci metteranno più in difficoltà, però credo che il bello del calcio sia questo. Ogni partita ti può rendere più forte se tu riesci a tirar fuori le cose importanti nelle quali sei migliorato. Abbiamo sofferto un po' di più rispetto alle altre, però sinceramente alla fine abbiamo fatto 26 tiri in porta, io firmerei per soffrire domani e fare 26 tiri in porta, insomma. Quindi sono stati momenti difficili, chiaramente, però alla fine abbiamo vinto una partita meritatamente, non esistono partite semplici, credo che l'europeo ci insegna questo, insomma squadre fortissime hanno sofferto, quindi non c'è una partita facile. Noi faremo la nostra partita sapendo che affrontiamo forse la migliore squadra in Europa in questo momento, insieme alla Francia, perché se è in testa del ranking da tre anni vuol dire che hanno fatto benissimo, quindi sappiamo che sarà una partita difficile, ma cercheremo di fare la nostra partita cercando di vincerla. Noi faremo la nostra partita, come abbiamo sempre fatto, avendo un grande rispetto della squadra che affrontiamo, perché sappiamo chi sono, ma noi dovremmo fare il nostro gioco e poi vedere quello che accadrà. Come ho detto prima anche, non ci sono partite semplici, perché la Svizzera ha battuto la Francia, il Portogallo è andato fuori, la Germania è andata fuori, l'Olanda è andata fuori dalla Repubblica cieca, quindi mi sembra che partite facili non esistano, soprattutto quando arrivi agli ottavi e ai quarti di finale, quindi insomma non cambierà molto. Ebbene, ovviamente non sarà una partita facile contro il Beggio, ma a livello di quarti di finale di un europeo nessuna partita è facile, come correttamente sottolinea il commissario tecnico Mancini, sentiamo anche le parole di Chiellini, che dovrebbe essere in grado di scendere in campo, avendo recuperato dall'infortunio che l'ha tenuto fuori nelle ultime due partite degli Azzurri, sentiamo. Lo stadio è bellissimo, a parte un attimo per il clima, l'abituarsi che sicuramente in Italia fa più caldo, c'è la sensazione di essere pronti per un grande evento, quello che sarà domani, siamo contenti di allenarci qui, sicuramente respireremo questa fantastica atmosfera e poi avremo un giorno di tempo per arrivare bene alla partita e sarà sicuramente una grande partita per tutti. Io sono contento di essere di nuovo a disposizione e di essermi allenato bene con la squadra da quando siamo tornati da Londra. Oggi abbiamo ancora un allenamento e per me è importante provare tutte le sensazioni. Poi credo che questo sia un grande gruppo e il mister stasera avrà sicuramente tanti dubbi nella testa perché questo gruppo gli ha dimostrato di avere tutte veramente le persone che possono ambire a giocare domani. Chiunque scenderà in campo sarà pronto per Lukaku e tutti gli altri giocatori del Belgio e sono certo che senza snaturare quello che è il nostro gioco e quello che ci ha portato fino a qui faremo una grande partita. Da parte mia e da parte di tutti noi c'è grande rispetto per Lukaku perché ha fatto una stagione straordinaria all'Inter e l'abbiamo potuto vedere tutto l'anno di quanto sia cresciuto e diventato un giocatore straordinario e determinante. Limitare il Belgio a Lukaku credo che sia quasi anche offensivo nei confronti dei compagni di squadra che sono tutti dei grandissimi giocatori e la prepareremo come abbiamo sempre fatto con un occhio di riguardo per i loro giocatori ma perché hanno delle qualità incredibili a prescindere da chi giocherà domani. Quindi non credo che dormiremo però bene entrambi stanotte sia io che Romelu. L'ultima notizia arriva dal mondo arbitrale, una notizia molto attesa e lieta nel panorama calcistico del Friuli Venezia Giulia. Si legge in una nota della sezione AIA di Udine, l'arbitro dell'AIA di Udine Luca Zufferli è stato promosso alla Commissione Arbitri Nazionale, la CAN. L'ufficialità è arrivata ieri nel consueto annuncio dell'organico nazionale per la prossima stagione sportiva che avviene ogni primo luglio, un traguardo che corona una nata proficua per il fischietto friulano classe 90 e arbitro dal 2006, dopo aver esordito in Serie B in Vicenza Reggiana dello scorso 10 maggio, ora quindi militerà nel campionato cadetto stabilmente in attesa del grande salto verso quello maggiore. Più volte l'arbitro Zufferli è stato anche impegnato nella direzione di gare amichevoli dell'Udinese, come potete vedere in queste immagini che vi stiamo trasmettendo, che lo vedono impegnato sia in gare della Lega Pro che appunto nelle gare amichevoli dell'Udinese che spesso si è avvalso della sua collaborazione. Quindi in bocca al lupo e complimenti all'arbitro Zufferli e a tutta la sezione AIA di Udine che riporta un suo arbitro nella Can A dopo molti anni. Adesso vi lascio alle previsioni di Trebi Meteo per vedere che giornata sarà fino a questa sera dal punto di vista meteorologico sulla nostra regione, ma vi faccio vedere però anche i programmi che abbiamo in previsione per questo pomeriggio, la prima serata, in prima serata per chi non vorrà vedere la partita, dubito che ci sarà qualcuno che non vorrà vedere Italabeggio, ma in ogni caso per chi non vedrà Italabeggio la possibilità di scoprire che cosa fare a Grado in vacanza, le opportunità che Grado offre per trascorrere il tempo libero in questa estate, poi tutte le edizioni del nostro telegiornale come sempre in diretta. Vi ringrazio per averci seguito, buon proseguimento dunque con Trebi Meteo e ci vediamo a mezzogiorno con la prossima edizione del Tg Live. Amici di Udinese TV, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì che sarà ancora caratterizzata da molta instabilità, quindi dopo una mattinata di sole nel pomeriggio si formano dei temporali in Friuli, Venezia e Giulia, partono dalle zone montuose ma poi raggiungono anche le aree di pianura, dovrebbe comunque rimanere esclusa la fascia costiera, comunque fenomeni di passaggio non particolarmente intensi. Per quanto riguarda Pordenone e Udine, anche qua la probabilità di qualche temporale resta alta tra pomeriggio e sera, comunque fenomeno è davvero di breve durata, come temperature e comunque valori estivi, arriveremo a toccare i 30-31 gradi ma non si andrà oltre, quindi tutto sommato valori nella norma e anche di notte si dorme benino. Gorizia e Trieste, situazione simile con temperature estive ma non necessariamente alte e qua con una minor probabilità di precipitazioni, anzi come vi dicevo lungo le zone costiere la probabilità di pioggia rimarrà praticamente nulla. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.